ciao ragazzi buongiorno siamo nel mio studio questa mattina e domenica è fuori piove e sto per fare una breve introduzione per gli amici interessati al modellismo statico breve introduzione perché perché andremo a vedere cosa comprare per appunto iniziare a divertirsi con questa attività per prima cosa bisogna sapere che il modellismo non è un gioco spesso vengono spesi dei soldi bei soldi e si rischia di fare danni si rischia di rovinare quello che abbiamo appena fondamentalmente montato e costruito addirittura abbiamo speso dei mesi interi per ottenere i risultati del tipo l'elicottero che avete visto in questi giorni negli album nell'album che ho postato ciao buongiorno simone allora fondamentalmente per prima cosa quando si compra un modellino che si va a spacchettare si trova in questo status questo sistema di supporto si chiama sprue e noi non andremo altro che a togliere le parti interessate e a montarle seguendo quello che è scritto nel manuale un manuale tipo questo ma ce ne sono vari tipi ciò che ci serve per andare a smontare ciò che c'è sul supporto sulla sprue non è altro che una tronchesina classica una tronchesina classica che sicuramente a casa avrete penso un po tutti o comunque reperibile in ogni mercatino in ogni farmacia ovunque quindi abbiamo detto tronchesina forbici classiche per andare a togliere prima di immergerle nell'acqua tiepida le decal le decalcomanie appunto che andremo a vedere poi più avanti quello che serve fondamentalmente in maniera insomma proprio fondamentale da capire sapere è che prima di montare queste parti che si chiamano appunto montate nella sprue vanno verniciate con quello che è il fondo chiunque utilizza della vernice sa che il fondo è fondamentale per consentire appunto il più facile l'attaccamento della vernice sulla parte c'è chi le spruzza prima e poi le monta tipo me c'è chi lo fa dopo averlo montato e c'è chi lo fa sia prima che dopo utilizzando un lieve strato di appunto oh che onore che onore buongiorno marco appunto abbiamo detto che vanno comunque verniciate con con il fondo questo serve consente la migliore attaccamento della vernice appunto detto questo dobbiamo comprare dei pennelli pennelli di varie misure quelli insomma più interessanti sono questi fini fini nel caso di questo è un 10 0 ma abbiamo anche uno 0 5 che servono a ottenere risultati del tipo questo qui senatrice buongiorno buongiorno è un onore un onore davvero dicevamo che il pennello 0 5 serve appunto a ottenere risultati del genere ora spero che si veda dalla telecamera ma comunque il senso è fondamentalmente quello di ottenere più dettagli possibili da un pezzo di plastica fondamentalmente molto piccolo abbiamo detto i pennelli tronchesina il primer che appunto serve a dare il fondo ai gol appunto alla vernice e quindi passiamo all'argomento colori ce ne sono vari tipi di colori questi sono alcuni in questo caso parliamo di un colore tamiglia che la marca diciamo che fa da padrone in questo in questo campo poi abbiamo degli italeri perché si distinguono varie marche e vari tipi perché ad esempio giusto per esempio appunto la grazie grazie ti ammiro io per altre cose lo sai bene appunto ci sono vari tipi di colori varie marche per appunto applicarli in varie attività e periodi storici fondamentalmente ad esempio dicevamo che questi degli italeri in questo caso specifico sono proprio creati per riprodurre i colori della guerra mondiale prima seconda che era insomma quindi vi consiglio ovviamente di documentarvi su youtube su internet in generale perché c'è scritto veramente di tutto io non mi sento in grado di fare dei veri e propri tutorial se non introdurvi in questa attività perché di errori ne faccio tantissimi spesso dovuti alla fretta e vabbè abbiamo detto primer colori c'è chi colora il proprio modello che può essere un aereo una macchina o nave a pennello o comunque con l'aerografo io da ragazzino andavo a pennello ho creato dei danni assurdi in questo caso però crescendo e migliorando ho preso un aerografo classico perché dico classico perché l'ho preso un po da combattimento abbastanza economico ne ho cambiati quattro ma quanto prima insomma procederò a prenderne uno un po più professionale senza star lì a specificare la marca che troverete fondamentalmente su internet intanto appunto quando si tratta di comprare acquistare ringrazio il negozio hobby house con cadoro no carissimo amico bravissimi ragazzi se siete a roma fateci un saltino perché veramente merita cortesia professionalità tantissimi oggetti da vedere da da comprare sì 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 un bel negozio allora detto questo per nel caso di utili vogliamo utilizzare l'aerografo fondamentalmente dobbiamo sapere che il colore non va preso inserito dentro l'aerografo e spruzzato va utilizzato un diluente di conseguenza i diluenti ne sono vari per ogni tipo di colore c'è il colore smaltato c'è il colore acrilico a base di acqua insomma ci sono vari tipi di colore e ogni tipo di colore ha il suo diluente in questo caso io per sbrigarmi appunto uno di tanti errori dovuti alle fretta è quello di inserire il diluente il colore direttamente qui dentro e mescolarlo qui cosa che non va assolutamente fatta perché si mescola veramente male e non ha alcun senso logico il risultato forse si ottiene ma dopo averci combattuto perché poi va pulito va insomma non si fa e la cosa corretta da fare prendere un piccolo contenitore versare delle gocce di colore lì delle gocce di diluente in un altro nello stesso contenitore mescolare lì poi passarlo all'interno dell'aerografo andate a guardare e a studiarvi l'utilizzo dell'aerografo perché ha comunque sia specialmente queste a doppiazione hanno un tipo di funzionamento interessante dove consente di far uscire solo aria o colore tirando maggiormente la leva in base a delle regolazioni che abbiamo precedentemente fatto andiamo a vedere le colle i vari tipi di colla appunto io personalmente utilizzo questa qui questa è un uhu classica il modellismo di plastica oppure c'è la revel che spesso troviamo nei kit già già montati perdono già pronti in kit che ti danno sia i colori che il pennello e colla e tutto quanto poi c'è la cianoacrilica questa è interessante quando si vanno a montare le parti che andrete a vedere photo edge praticamente sono riproduzioni fotografiche su metallo insomma molto dettagliate sono parti che vanno applicate sul modello stesso e spesso sono aftermarket ad esempio cito una marca in particolare eduard brassin che le fa e iris e tutte queste altre marche qui che andrete a vedere poi su youtube su internet e ovunque insomma la cianoacrilica sulla plastica non va utilizzata o meglio la plastica se volete proprio utilizzarle vi serve un attaccamento rapido della parte dovete utilizzarla veramente con il facendole sentire solo il profumo perché la cianoacrilica è pericolosa nel senso vi squaglia la parte ve la rovina io stesso ho fatto questo errore con questo modello appunto l'elicottero che stiamo vedendo in questi giorni voglio di chi è capitato di vederlo su sull'album ci ho attaccato il rotore principale il perno andando nel rotore principale ha squagliato la parte il rotore oscilla così ho dovuto costruire un sistema invisibile di supporti ed è abbastanza ridicolo vabbè l'aerografo tornando a noi va utilizzato appunto con dei diluenti centellinati col contagocce e tutto quanto informatevi veramente bene altrimenti perdete il gusto di utilizzare l'aerografo ciao buongiorno a tutti intanto ciao dario giovanni anche a te o carmine proprio questo video è anche no per te no tu sei bravo tu già conosci allora abbiamo detto l'airbrush che significa aerografo fondamentalmente cleaner che è un pulitore fondamentalmente io dopo due tre volte che utilizzo dei colori diversi cerco di dare una pulita al volo altrimenti si blocca ciao marie carmella buongiorno anche a te di conseguenza veramente studiatevi l'argomento aerografo che con pochissimi soldi lo trovate senza dire il sito dove scusate e di conseguenza potete iniziare andiamo a vedere un attimino che altri ai che altro posso dire abbiamo detto le coni le colle i pennelli a per le decalcomanie quindi appunto le queste qua questa sorta di figurine ritagliate la decalcomania seguendo il manuale lo immergete in un acqua in un bicchierino di acqua tiepida appena si sta per scollare procedete ad attaccarlo guardate come si fa su youtube ok non si utilizza solo l'acqua come io facevo fino a qualche tempo fa e buttando ciao giuseppe buttando veramente le decalcomanie dopo qualche mese venivano via come è successo all'f 104 di qualche dell'anno scorso troverete l'album tra tra le mie foto di conseguenza non utilizzo più soltanto acqua ma compro questo prodotto specifico uno dei tanti insomma è un decal adesivo praticamente un adesivo per le decal senza stare lì a fa what's american poi abbiamo almeno quello che utilizzo io per l'argomento verniciatura questi nastri qui ciao andrea buongiorno tantissimo che non che non ci vediamo utilizzo questi nastri qui questi sono un masking tape praticamente il nastro di mascheramento e praticamente si copre ciò che non deve essere toccato dalla vernice questo è proprio in maniera molto molto veloce e generica per utilizzare invece non linee dritte per verniciare non delle linee dritte ma tipo mimetizzazioni queste cose qui la gente dice ma come si fa devi avere proprio una mano precisa per fare la mimetizzazione no questa è una pasta della pattex no si schiaccia si modella a proprio piacimento si si fa tipo sfoglia no e si applica sul modello creando appunto figure a proprio piacimento che possono essere così per fare mimetizzazioni si appoggia sul modello si spruzza ovviamente la vernice non passa la pasta ecco lì che rimane il fondo e si crea la mimetizzazione mi dispiace essere così veloce ma immagino che di domenica mattina può essere una rottura di palle star lì anche un po per curiosità vabbè a guardare queste cose ma è un video mirato appunto ai ragazzi interessati e ragazze un'altra cosa di cui parlare velocemente sempre è lo stucco il modello sebbene siano modelli insomma di un certo livello spesso sono comunque sia sono parti di plastica e spesso andandoli a tagliare ed ad unirli fra loro non sono così precisi di conseguenza si utilizzano degli stucchi questo in questo caso questo milliput bianco super fino è uno stucco bicomponente vi faccio vedere che significa perché io fino a qualche anno fa non l'avevo capito bicomponente praticamente a due componenti che vanno mescolati fra loro per ecco il perché c'è un colore azzurro che identifica quello che c'è all'interno che è diverso e un colore trasparente io anni fa ne utilizzavo soltanto uno convinto che l'altro fosse di scorta quindi un genio praticamente e non stuccava niente non funzionava non si induriva e vabbè quei modelli purtroppo stanno concimando chissà quale discarica intorno roma oppure la squagliato il tbm qui che vabbè lasciamo verde questo argomento allora detto tmb forse andiamo a vedere un po abbiamo detto vari tipi di colori ok per ottenere quei risultati che abbiamo visto nelle foto anche se la foto poi in realtà è molto dettagliata ciao pierluigi molto dettagliata e a volte sembra che il modello non è fatto bene appunto perché si evidenziano troppi troppi risultati troppi troppo bene risultati abbiamo delle paste abrasive ci sono vari tipi di pasta abrasiva c'è quella più dura c'è quella più dura come nella come per le macchine e c'è quella un po più fina in questo caso quella più fina si chiama finish e non è altro che un lucido queste sono per ricercarle eventualmente vi faccio ok queste qua sempre marcata miglia insomma è quella che governa ma non peraltro perché comunque ha prodotti di qualità e fondamentalmente va bene va bene così ricordiamo che questo è un hobby che non è che ti regalano le cose quindi sarebbe giusto comprare ciò che realmente ci serve senza sprecare insomma quelli che sono i soldi per andare a ridurre un modello con con della dandogli della storia regalando il passato appunto ci si possono aggiungere delle della ruggine queste sono polveri appunto pigmenti in questo caso la mig che ha una marca non è l'aeroplano la mig crea questi prodotti che si chiamano in questo caso vabbè lo dico italianizzato track rust scritto rust non è altro che ruggine ma ci sono terra ci sono prodotti che riproducono l'erba insomma tantissime tantissime cose da dover sapere ripeto andate su youtube a vedere dei tutorial perché la c'è scritto veramente tutto ragazzi io penso di avere in qualche modo concluso questa introduzione non vedo altre cose particolari nei miei cassetti vabbè se non questa qui procuratevi della carta vetrata leggera non come questa qui questa vabbè ma avanzava e la utilizzo veramente col col microscopio questa qui ad esempio è quello che succede quando viene tagliato una parte sulla sprue rimangere questo dentino se questo dentino non ci serve si va a limare con della carta questa ripeto troppo forte rischia che di lima proprio anche il pezzo quindi serve una un po più fino ciao fabrizio 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 lavora praticamente alla casa di cura degli iphone ve lo dico ragazzi se vi dovesse servire in ogni caso ragazzi io penso di avervi detto tutto ci sono vari tipi di colori abbiamo detto vari vari ad esempio per le parti più grandi la tamiglia passa alle bombolette quando vanno colorate parti più grandi o modelli 1 e 48 la parte sotto insomma onde evitare problematiche con l'aerografo dispendio di colore e quant'altro e di tempo ma anche soprattutto la tamiglia offre le bombolette giusta distanza attenzione alle colature provatele prima su un pezzo di legno su una carta per vedere l'effetto del colore quello che andrete poi a fare sul modello appunto onde evitare cosiddette come direbbe mio padre pecionate che non ho mai capito se italiano se si è inventato lui ma comunque ciao gianluca buongiorno dottore grandissimo ci vedete ci sentiamo stasera sulla playstation ciao fabrizio ragazzi io penso ripeto penso di avervi detto tutto poi ovvio in base alle voglia di proprie possibilità e uno può iniziare a comprare accessori tipo questo ma spero proprio non questo qui perché lo trovate su una notissima conosciutissima piattaforma di acquisti online ma non vale praticamente niente perché non si stringono bene le insomma non si stringe bene quindi si muove tutto non va bene prendetene uno simile sempre lente di ingrandimento fondamentale sono molto fighi gli occhialini ma fanno un po anziano ma io sto sui 36 quindi tra po me li prendo quindi ragazzi io vi ho detto tutto dai mi ha fatto mi ha fatto molto piacere a parte avervi visto interessati quei pochi che speravo che c'erano che ci fossero ci sono ci sono stati e il video comunque resta disponibile a tutti quanti questo per quanto riguarda l'introduzione al modellismo penso sia tutto vi faccio vi torno a far vedere l'elicottero come starvi come sta avvenendo mancano ancora molti decal manca la scritta qui us army appunto esercito americano e cerco di riprodurre su una tavola l'ambiente quello che era un ambiente del vietnam quindi voglio dire ancora manca un pochino ne ho un altro da iniziare insieme all'amico emanuele qui inizieremo un tornado insieme vedremo un po che succederà perché un tornado 1 e 32 significa almeno così grosso ci sarà da divertirsi ok senti sentite mi ha fatto tantissimo piacere spero vivamente di esservi stato utile chi ha delle domande scusate un messaggio chi ha delle domande può farmele tranquillamente via via messaggi tutto quanto ma spero di essere stato abbastanza chiaro e trasparente su quelle che sono le attrezzature basi e base da comprare ok poi ci sono stracci e ti vari ma questo a discrezione vostra ognuno lavora proprio modo si organizzerà la scrivania proprio modo e tutto quanto ok vi saluto facendovi vedere che non tutti appunto sono interessati al modellismo come vedete a lui sinceramente non gliene può fregare proprio di meno quindi ragazzi dal mio studio è tutto vi abbraccio forte ciao pasquale buongiorno ci vediamo poi presto e un saluto a tutti ciao ragazzi grazie